Il diluvio universale. Dopo la caduta, Adamo ed Eva generarono figli, Caino prima, Abele poi, Seth infine. Caino, agricoltore, era geloso del fratello minore Abele, pastore. Abele infatti offriva sacrifici graditi a Dio, al quale donava i primogeniti del suo gregge. Non altrettanto graditi però erano i doni di Caino. Infatti non offriva le primizie ma solo il superfluo, tenendo il meglio per sé. Vedendo quest'ultimo adiratto in volto, evidentemente geloso di quanto il fratello Abele fosse gradito a Dio e lui no, il Signore lo esortò a fare del bene e a dominare le sue passioni e gli disse, Genesi 4, 7, l'appetito tuo ti starà sottoposto e tu potrai dominarlo. Quindi, sforzandoci un po', lavorando, usando la ragione, possiamo dominare le nostre passioni. Questa è l'esortazione che Dio dà a Caino. Purtroppo questa esortazione non fu seguita e un giorno Caino invitò Abele a uscire nei campi, dove lo uccise a tradimento. Caino fu condannato a essere ramingo e fuggiasco. Affinché nessuno lo uccidesse, il Signore pose un segno su di lui. Caino poi conobbe sua moglie e generò Henoch. In seguito fondò una città, che in realtà ha un piccolo gruppo di abitazioni umane, che chiamò pure Henoch, dal nome del figlio. Dai figli di Caino sarebbe sorto Iubal, padre dei musicisti di cetra e di organo, dice la Bibbia, ma anche Lamec, che ebbe due mogli e fu omicida come Caino, se non peggio. Adamo conobbe poi Eva un'altra volta e fu concepito Set, dopo Caino e Abele, che prese il posto di Abele. Adamo visse in tutto 930 anni. Dalla Mec, che visse 777 anni, provenne Noè. Questi, all'età di 500 anni, concepì Sem, Cam e Japheth. Fu a partire dalla generazione dei figli di Noè che Dio scelse di accorciare la vita agli uomini. Infatti troviamo in Genesi 6, 1-3. Avendo gli uomini cominciato a moltiplicarsi sopra la terra e avendo procreato delle figliuole, i figli di Dio, che videro essere belle le figlie degli uomini, quindi i figli di Dio vedono le figlie degli uomini e le trovano belle, si presero in mogli fra tutte quelle che loro piacquero. Disse il Dio, lo spirito mio non abiterà nell'uomo per sempre, perché egli è carne e i suoi giorni saranno di 120 anni. In precedenza la lunghezza dei discendenti di Adamo era stata incredibilmente lunga. Seth, 912 anni, Enos, 905, Malael, 895, Cainan, 910, Yared, 962, Matusala, che noi conosciamo anche come Matusalemme, 969 anni. Ma al tempo di Noè il genere umano aveva ormai cominciato a propagarsi con ritmo sufficiente, sicché per questa ragione Dio anche per questa ragione decise di diminuire l'età media della vita. Tuttavia ecco che i figli di Dio erano molto attratti dalle figlie degli uomini, come abbiamo letto, e le prendevano in moglie. In altre parole, come commenta padre Ricciotti, i discendenti di Seth, che si erano mantenuti fedeli a Dio, iniziarono a unirsi con le donne della stirpe di Caino, divenute però ormai empie. E da questa unione nacquero poi i giganti. Ora, dice Genesi 6,4, vi erano dei giganti sulla terra in quel tempo, perché dopo che i figli di Dio si congiunsero alle figlie degli uomini ed esse generarono, ne vennero questi uomini forti e robusti, famosi nei secoli. I giganti quindi sono esseri robusti e forti che compariranno peraltro altrove nelle sacre scritture. Gli uomini a quest'epoca erano divenuti assai malvagi e il loro cuore era rivolto al male. Dio così si pentì, ovviamente Dio non può sperimentare passioni, quindi si pentì fra virgolette. È un modo insomma per far vedere che cosa stia accadendo, che cosa stia per accadere al genere umano, si pentì di aver creato l'uomo e decise di sterminare il genere umano, salvo Noè e la sua famiglia. Su indicazione precisa del Signore, Noè e i suoi familiari costruirono un'arca, nella quale avrebbe introdotto Noè una coppia, maschio e femmina, degli animali di ogni specie. Noè poi vi entrò con la moglie, i figli e le mogli dei suoi figli. Il diluvio ebbe inizio nel seicentesimo anno di vita del patriarca, quando, dice la scrittura, si ruppero tutti i fonti del grande abisso, s'aprirono le cateratte del cielo e fu pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Dobbiamo ricordare che il numero 40 torna molto spesso nelle scritture. 40 giorni di digiuno di Cristo nel deserto, 40 anni trascorsi per punizione nel deserto da parte del popolo ebraico e così via. Ci dice Genesi 7, 20-24 15 cubiti s'alzò l'acqua al di sopra dei monti che aveva ricoperti e fu distrutto ogni essere che si muoveva sulla terra, degli uccelli, animali, bestie, rettili che strisciavano sulla terra. Tutti gli uomini e tutti gli esseri che hanno sulla terra, alito di vita, morirono. E sterminò ogni vita di sulla terra, dall'uomo in sino alle bestie, rettili ed uccelli dell'aria. Tutti furono sterminati di sulla terra. Restò solo Noè e quelli che erano con lui nell'arca. Le acque occuparono la terra per 150 giorni. Un cubito corrisponde come unità di misura a 55 centimetri. Trascorsi 40 giorni, la pioggia terminò e le acque iniziarono a calare. Ai 27 del settimo mese l'arca si posò sui monti dell'Armenia. La diminuzione del livello delle acque proseguì fino al decimo mese, quando al primo giorno del mese apparvero le cime dei monti. Noè allora aprì una finestra dell'arca e lasciò andare un corvo prima, una colomba poi, per due volte. La seconda volta la colomba tornò con in bocca un ramoscello d'olivo con foglie verdi. A questo punto Dio comandò a Noè di uscire e di moltiplicarsi sulla terra. Rientrate sulla terra, crescete e moltiplicatevi su di essa. Una volta però rientrato sulla terra come prima cosa, Noè costruì un altare e offrì un sacrificio animale a Dio, che ne gustò l'odore e affermò quanto l'uomo sia inclinato al male fin da giovani. Questa del resto è la conseguenza del peccato originale. Il Signore disse, Genesi 8, 21, 22, mai più maledirò la terra a cagione degli uomini, perché i sensi e i pensieri del cuore umano inclinano al male sin dall'adolescenza. Non più dunque percuterò tutti gli esseri viventi come ho fatto ora. Finché la terra starà, la sementa e la messe, il freddo e il caldo, l'estate e l'inverno, la notte e il giorno non verranno meno. Dio poi ribadì anche, ancora una volta, la superiorità del uomo sugli animali. Genesi 9, 1, 3. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, crescete, moltiplicatevi e popolate la terra. Abbiano timore e tremore di voi tutti gli animali della terra e tutti i volatili dell'aria. Tutti gli esseri che si muovono sulla terra, al pari di tutti i pesci del mare, sono rimessi in mano vostra. Tutto quel che si muove e vive sarà vostro cibo. Tutto io vi ho consegnato, al pari delle erbe verdeggianti. Chiaramente solo un'ideologia controversa può invertire le cose facendo sì che l'animale sia alla pari dell'uomo se non sopra l'uomo e che l'uomo debba vivere una vita limitata in ragione degli animali. In aggiunta, Dio maledisse chiunque avrebbe ucciso il proprio fratello. Chiunque avversi sangue umano sarà versato il sangue di lui, perché l'uomo è stato fatto a immagine di Dio. Ecco l'essenza della gravità dell'omicidio. Ripetiamo, Genesi 9, 6, 7. Chiunque avversi sangue umano sarà versato il sangue di lui, perché l'uomo è stato fatto a immagine di Dio. Voi dunque crescete e moltiplicatevi. Prendete possesso della terra e popolatela. Il segno del nuovo patto fra Dio e l'uomo fu poi l'arcobaleno. Dio disse, porrò nelle nubi il mio arco e sarà segno di alleanza fra me e la terra.